Il Taranto chiama, il Casarano risponde e lo fa la grande sul campo del Bitonto. 1-3 risultato finale al Città degli Ulivi. Mincica con un Euro-Gol, il solito Rodriguez e il sigillo finale. Di Argento valgono i tre punti e la prima vittoria esterna dell'Ero Orlandi. In cronaca, il tecnico Rosso-Azzurro lancia dal primo minuto Ficara nel tridente offensivo con Mincica e Favetta. Lo Seto si affida sulla sinistra al nuovo arrivo Tarantino con Esposito e Lattanzio in avanti. Il primo tempo è di studio senza grandi emozioni, dopo due giri di lancetta una punizione velenosa del 10 Rosso-Azzurro impensirisce Zinfollino. Bisogna andare al 32esimo per la prima vera occasione, Ficara ispira, Favetta di testa non c'entra il bersaglio grosso. Due minuti più tardi un'occasione molto simile però per il Bitonto. Eccolella a crossare ma Lattanzio mette a lato. La seconda frazione si apre con il gol del Casarano, Mincica raccoglie il pallone sulla tre quarti e si inventa il gol del vantaggio, è 0-1. La reazione del Bitonto è tutta nella zampata di Mariani al minuto 67, palla che finisce di pochissima a lato. Al settantesimo entra Rodriguez, obiettivo del Bitonto in diverse sessioni di mercato. Il Cubano ci mette però neanche un minuto a punire i Neroverdi, contropiede perfetto e Rodriguez che incrocia e fa 0-2. La risposta del Bitonto però non si fa tendere, fallo di mano in area del Casarano. Penalti, Lattanzio dal dischetto trova i piedi di Pitarresi ma Tedesco è abile a fare tap-in. 1-2 è partita riaperta. I Neroverdi ci provano ma senza cogliere il pareggio. Si sbilanciano troppo e questa volta Rodriguez in veste di assistment serve Argento che fa 1-3 e chiude la sfida. Il Casarano torna alla vittoria esterna dopo più di un mese e lancia un messaggio importante al girone. 3-1 anche del Taranto che contemporaneamente...